In questo contesto di distruzione della mia patria sono rimasto estremamente addolorato dal fatto che il porto di Trieste, e Trieste dice molto per gli italiani, è stata conquistata con la vittoria della prima guerra mondiale. L'italianità di Trieste non si discute, eppure la conquista di Trieste, che è costata il sangue di tanti soldati, specialmente del Meridione, perché sappiamo che Cadorna si era reso conto che prendere le persone del nord che avevano parenti oltre i confini in Austria non era possibile, e quindi furono chiamati uomini, i poveri contadini del sud, su quelle montagne che ho visitato poi. Quindi Trieste è italiana anche perché è il frutto del sangue degli italiani. Poi con le idee neoliberiste, suicide, indefinibili dal punto di vista etico e anche giuridico perché incostituzionali, con una legge abbastanza remota al momento, la legge numero 84 del 1994, governo Ciampi, e allora mi è venuto qualche sospetto anche sulla sua elezione a Presidente della Repubblica, è stata privatizzata la logistica del porto di Trieste, cioè a dire tutto quello che fa parte della manutenzione, dell'allargamento del porto, del tracco delle navi, dell'acquisto delle tariffe sulle merci, del carico e dello scarico, tutto questo viene trasformato in una spa, in una società per azioni e acquistano questa società per azioni, effetto della privatizzazione, due società italiane, imprenditori italiani. La prima si chiama Icop, la seconda porto il nome del suo presidente, non mi ricordo il nome, meno male. E comunque la cosa importante è questo, che tutti i frutti che può dare un porto di quel genere, che rappresenta l'affaccio sul Mediterraneo di tutta l'Europa del Nord, anziché essere gestita dal popolo italiano, da un ente pubblico italiano, è gestito da due persone che io col massimo rispetto chiamo faccendieri, ma non perché siano di fatto faccendieri, ma perché fanno i loro interessi, quindi una risorsa economica, una fonte di produzione di ricchezza nazionale viene privatizzata, e questo è il primo appunto che faccio a Ciampi, e poi viene presa direttamente con una specie di acquisto del contenuto della proprietà da soggetti privati, da due soggetti privati. Qui mi piace far riferimento innanzitutto al concetto di proprietà privata, che è quello noto a tutti, potere di godere e di disporre. L'ente pubblico, il porto di Trieste non si può spostare da un posto all'altro, quindi non si dispone, però si fruisce, quindi si gode. Il godimento del porto di Trieste, l'acquisto dei frutti che dà questa fonte enorme di produzione di ricchezza, se ben gestita, è stata data ai privati, tolta al popolo italiano. È un oltraggio al popolo italiano, è un oltraggio ai martiri della prima guerra mondiale, ai martiri che col sangue hanno conquistato a noi italiani il porto di Trieste e noi italiani li abbiamo ricambiati con un fatto indefinibile, cioè trasformando in proprietà privata quella che era la proprietà pubblica del popolo. Cioè dire abbiamo tolto la proprietà del porto di Trieste a tutti gli italiani, proprietà che era stata conquistata col sangue e l'abbiamo dato per scopi economici a due soggetti. Da 60 milioni di soggetti attivi, proprietari, si è passato a due soggetti e questo nell'indifferenza mi viene comunicato degli stessi triestini. Doppia delusione, doppia, tripla, quadrupla delusione. Queste due società italiane, trattando sul piano del diritto privato come se loro fossero i proprietari del porto di Trieste, hanno chiamato a far parte di una nuova società che si chiama la piattaforma logistica di Trieste per ampliare il porto, che ha come finalità l'ampliamento del porto, una società tedesca, Hamburger Hafen und Logistics Agency, detto in sintesi HHLA, HHLA, la quale furvescamente non ha neanche preso il 51% della piattaforma, ma ha preso il 50 e 0,1%, quindi il minimo per poter dire qua comando io. Cioè il porto di Trieste è praticamente gestito oggi da una società tedesca e la cosa atroce è che questa società tedesca non è come le nostre due una società privata, è una società pubblica, è la città di Hamburgo che fa parte della federazione tedesca e la città di Hamburgo è diventata la vera proprietaria del contenuto di proprietà pubblica del porto di Trieste. Bell'affare che abbiamo fatto, nell'indifferenza del governo che poteva usare il Golden Power, poteva vietare questa operazione, è nell'indifferenza generale, perché i nostri giornali, la nostra stampa, le nostre comunicazioni non dicono queste notizie. Io l'ho scoperto per caso leggendo la pagina 38 del Corriere della Sera di una decina di giorni fa. Era una notizia tra filetto messa così di scorcio prima delle notizie sportive, in modo che di solito uno passa direttamente alle notizie sportive e non si rende conto della gravità della cosa. L'ho messa su un mio post, quelli quotidiani che grazie a te riesco a fare e non avrò mai abbastanza gratitudine di esprimerti per questo lavoro che mi concedi di fare, anche perché mi hai dotato di un collaboratore straordinario, Marco Iacoella, veramente straordinario. Quindi ogni mattina facciamo la rassegna stampa e io faccio il mio articoletto ogni giorno, che però ha un notevole successo, un notevole gradimento. È quello che posso fare, è quello che ritengo sia il mio dovere di fare. Questo è il fatto. Adesso secondo me quello che è importante è collocare questo fatto nel contesto generale, perché quello che sfugge alla politica, alla stampa, ai giornalisti e a tutti gli italiani è in quale contesto noi ci troviamo. Noi ci troviamo in un contesto che, detto in una parola, ha trasformato l'economia reale dello scambio, l'economia dello scambio è quello che ho studiato al primo anno di università, nel 1954-55. Non esisteva un'economia della concorrenza, un'economia reale dello scambio, lo scambio tra oggetti reali, non tra oggetti fittizi come i derivati e robaccia di questo tipo. Quindi noi siamo di fronte a un fenomeno economico incredibile che fondandosi sulla globalizzazione, quindi sulla facilità delle comunicazioni e sono le comunicazioni che rendono la ricchezza. Roma è stata grande perché ha costruito strade in tutto il mondo, portando la civiltà romana dovunque. L'impero britannico è stato grande perché ha portato in tutto il mondo le sue banche, facendo le stanze di compensazione. Insomma, chi conquista tutto il mondo, chi mette in comunicazione oggi, perché oggi il punto è questo, quello di mettere in comunicazione, ha il mondo tra le mani. E purtroppo il mondo tra le mani ce l'hanno oggi quelli che sono i produttori della telefonia, della telecomunicazione in genere, di internet, del web, di qualsiasi forma di comunicazione, che si pongono fuori del diritto e impongono le loro esigenze al diritto, il quale obbedisce col cappello in mano. Questa è la tragedia che stiamo vivendo. La trasformazione di un'economia reale, economia dello scambio, in una economia fittizia che economia della concorrenza. A questo punto viene in evidenza che tra i due permi in cui si svolge la vita sociale, e cioè dire l'egoismo e la solidarietà, è stata eliminata la solidarietà, perché non conta più lo scambio dei beni che dà luogo a un benessere per tutti, ma vale la concorrenza, cioè dire il fatto che chi ha deve avere sempre di più in concorrenza con gli altri, fino ad arrivare a un unico concorrente, un unico concorrente il più forte. Adesso sono otto mi pare, Amazon e altri soggetti di questo tipo, che non hanno certo la mia approvazione, perché questi sfuggono al diritto, sono fuori di ogni ordinamento statale o federale e impongono e vogliono le loro leggi e ci sono riusciti, perché, e qui veniamo al secondo punto, cioè in questo quadro della globalizzazione, il secondo punto che è un quadro reale della globalizzazione, cioè della possibilità di comunicare attraverso questi strumenti telematici, quindi una volta era attraverso le comunicazioni concrete, le strade, poi attraverso le comunicazioni bancarie, l'impero britannico e adesso attraverso le comunicazioni televisive o comunque telematiche, quindi la telematica oggi ha un posto dominante e ha trovato, come dire, nel progresso tecnologico la sua consistenza e quindi è lì che si è accentrato il potere, addirittura la sovranità che intacca la sovranità degli altri stati. A questo punto entra in ballo, a mio avviso, il pensiero umano, perché come diceva Mazzini pensiero e azione, a un certo punto se si vuole organizzare qualcosa bisogna rifletterci. E cosa è successo? È successo che all'antico principio realistico relativa all'economia dello scambio di stampo keynesiano si è sostituito un'economia, un pensiero predatorio basato sulla concorrenza e quindi sull'abbattimento direi anche fisico dei concorrenti, fisico nel senso economico, nel senso di distruzione dell'economia di un soggetto, cosa che invece l'Iri cercava di sollevare, insomma un'impresa che stesse vacillando veniva aiutata e veniva riportata nel mercato e quindi valeva il principio solidaristico durante il fascismo con tutti i danni che si danno per la dittatura e via dicendo, però quelle cose che erano positive restano positive. Insomma c'era l'Iri 1933 che salvava le piccole imprese, adesso col nuovo sistema economico predatorio neoliberista l'impresa che vacilla deve essere uccisa, deve essere eliminata dal mercato perché devono avere forza solo le imprese più forti, quindi siamo passati da un'economia solidaristica a un'economia predatoria, egoistica e questo come? Attraverso la collusione dei nostri poteri, perché ho parlato del porto di Trieste, 1994, ormai abbastanza lontano nel 94, governo Ciampi, noi ci siamo tolti il contenuto del diritto di proprietà del porto di Trieste e quindi quello che conta non è il nome proprietà, la nuda proprietà pubblica che ancora ci resta, ma è nuda, il è nudo, la nuda proprietà ce ne facciamo un cavolo, insomma, i romani dicono un fico secco, flocci faccio, me ne faccio un fico secco, invece la realtà, il contenuto della proprietà che in campo pubblico consiste nella gestione, nell'uso, nel godimento e nella percezione dei frutti economici, questo va ai tedeschi a porto di Trieste, i quali se li guadagnano con uno 0,1 in più nella società privata, privatizzata da Ciampi, cui ha fatto poi seguito Amato con delle grandi privatizzazioni, sconvolgendo tutta l'Italia e comunque prevale il pensiero neoliberista. Mi piace sottolineare due aspetti su questo punto, tenendo presente la distinzione tra egoismo e solidarietà. Keynes, il neoliberismo, Hayek e via dicendo, Milton Friedman della scuola di Chicago, in modo principale il maggiore responsabile, sono egoisti, cioè a dire deve vincere uno, devo vincere io, non deve vincere nessun altro, devo vincere soltanto io. In che modo? La teorizzazione, il pensiero è questo, il danaro deve stare, il capitale deve stare nelle mani di pochi, questi pochi devono avere, devono agire con una forte concorrenza e poi lo Stato, cioè il popolo, cioè la collettività, deve essere stromessa dal mercato, cioè tutti noi che pure dobbiamo stare nel mercato per campare, perché ogni uomo ha una testa, due braccia e due gambe e questo è il potere che ha, invece viene escluso dal mercato, perché il mercato deve essere fatto da pochi e quindi si capiscono i licenziamenti che ci sono, che sono enormi, cioè non vale più il lavoro, vale la concorrenza e chi domina tutto e non sappiamo neanche cosa siano state le scie chimiche, cos'è il Covid-19, quali sono le responsabilità eccetera, qui è tutto oscuro, io nell'oscurità non ci vedo, quindi non mi esprimo perché non ci vedo, io vedo le cose chiare e ne parlo quando le cose sono assolutamente visibili. Comunque è sicuro che il pensiero neoliberista di Milton Friedman è un pensiero maledettamente egoistico, è un pensiero nel quale uno deve prevalere sull'altro con la forza, schiacciando l'altro, ecco non è una discussione, non è una disputa in cui si discute e poi si conquista attraverso la dialettica una verità che poi è sempre parziale, ma comunque è positiva, no, lì si schiaccia chi sul mercato non vale niente e tutti, secondo Milton Friedman, devono essere imprenditori, esiste solo l'uomo imprenditore, non esiste l'uomo che studia, esiste l'uomo imprenditore, tanto vale quanto tu produci e se non produci fai miseria e non ci interessa niente, quindi è proprio lo sconvolgimento di tutte le idee che ci hanno sorrette fino ad oggi. Invece il povero Keynes, dico povero, lui era un gran borghese di Londra e quindi se questa lezione viene da un borghese ha maggior valore. Keynes dice no, sono due gli elementi economici da tenere presente. Primo, la ricchezza non deve essere di pochi, deve essere distribuita alla base della piramide sociale e quindi ci troviamo con Papa Francesco dell'enciclica Laudato Si e soprattutto con quest'ultima stupenda enciclica Fratelli Tutti, che vede tutti gli aspetti, sono più di 300 pagine, insomma, io avrei invitato Papa Francesco a scrivere un po' di meno, però ha visto tutto in modo mirabile, straordinario, attirandosi alle critiche di questi maledetti egoisti, naturalmente, perché tra egoisti e altruisti non c'è possibilità di dialogo, o si convertono oppure restiamo su due sponte opposte. E Keynes dice due cose, la ricchezza va distribuita alla piramide sociale, alla base della piramide sociale, in modo che i lavoratori vanno ai negozi, i negozi vanno alle imprese, le imprese producono e assumono e questo cilico virtuoso si ripete e quindi ha ragione dal punto di vista, anche perché dicendo questo Keynes era conforme alla natura, alla natura delle cose e quindi alla natura del creato, per chi è credente. Ognuno di noi deve avere come vivere, come dice Papa Francesco, non è che solo al pochi devono avere il dominio della terra, la terra, il territorio, terre torus, letto di terra, secondo i romani, ecco, il territorio deve appartenere a tutti, deve essere pubblico, quindi l'importanza della proprietà pubblica, poi ci vedremo. Secondo elemento, solo due elementi sono i concetti di Keynes, molto semplice, secondo elemento tutto il popolo, lo Stato deve essere protagonista nell'economia, non deve essere un tappabuchi come il nostro, deve essere protagonista dell'economia in modo che tutti lavorano, che il lavoro abbia la sua validità, che sia di tutti e che si produca per tutti, ovviamente rispettando le fonti di produzione di ricchezza, non distruggendo il territorio come si è fatto con questa idea egoistica di accaparramento di quello che degli altri e quindi, come dire, l'importanza di questo pensiero che si riferisce soprattutto al benessere di tutti. Quindi principio egoistico, principio solidaristico, uno da una parte, io, l'io da una parte, tutti noi dall'altra. Questo è il quadro generale del pensiero. Cosa, questo pensiero negativo neoliberista, io vado veloce, però penso che sono delle idee fondanti del discorso queste. Questo pensiero negativo neoliberista, come si è realizzato? È stato studiato a tavolino. Prima si è parlato delle liberalizzazioni, cioè a dire le multinazionali, che poi sono i protagonisti di questo pensiero, le multinazionali è la finanza predatoria che crea della moneta fittizia. Questa è una cosa atroce, perché una scommessa diventa danaro. Questo per Berlusconi, legge 448 del 2001, non è che dico cose non sicure. Berlusconi ha detto che con i derivati, cioè a dire con delle pure scommesse, delle quali non si dovrebbe proprio parlare, perché da una scommessa non nasce nessun effetto giuridico, esclusi l'assoluto retenzo, cioè a dire il codice civile dice se tu hai giocato e sei stato tanto stupido da pagare anche la perdita del gioco, quella te la sei buttata tu, ma nessun effetto ha la scommessa. Invece di fronte a delle scommesse, a dei derivati, ormai avevano invaso tutta l'economia mondiale, anche la giurisprudenza della Cassazione è stata un po' resistente, allora si è cominciato a dire ma dobbiamo stare attenti, bisogna che sia informato bene il compratore, ha messo dei piccoli rimedi, ma io se fossi stato in quei collegi avrei detto un momento, questa è una scommessa, la scommessa non ha tutela giuridica, non fa sorgere obbligazioni, quindi queste sono da annullare e il mio pensiero è che i derivati sono nulli e che la nullità del derivati senza limiti di tempo, perché la nullità deve essere fatta valere davanti al giudice, quindi questa è la nostra, e se ci sono questioni sono da portare poi alla Corte Costituzionale, la quale se agisce bene dovrebbe annullare assolutamente i derivati e porcherie del genere, perché la terminologia che c'è in materia è enorme, quindi io dico derivati e con essi tutti gli altri simili, et similia, evitando le cose. Quindi liberalizzazioni. Poi la cosa più atroce, sulla quale hanno combattuto persino professori universitari di cui non faccio i nomi, perché li detesto, li detesto nel modo più assoluto e se potessi li denigrerei, ma non lo posso fare e non li posso nominare, però questi professori universitari che hanno privatizzato tutto, hanno tolto tutto al popolo, in che modo? Attraverso le privatizzazioni, facendo credere che privato è bello, che privato è meglio del pubblico. I fatti ci dicono invece che è l'inverso, dopo che la sanità è crollato col coronavirus, si è provato l'inverso. Quindi le privatizzazioni consistono nel trasformare l'ente pubblico che gestisce una funzione o un servizio pubblico in una società privata, questa è la privatizzazione, una spa. Quindi un ente pubblico, per esempio, non mi viene il nome, un ente pubblico che aveva tutta l'acqua del meridione, Tibli mi pare che si chiamasse, che aveva tutta l'acqua del meridione e che doveva gestire tutta l'acqua del meridione nell'interesse di tutta l'Italia, perlomeno di tutta l'Italia meridionale, è stata trasformata in una società privata e questa società privata l'hanno comprata i francesi con una società che accaparra tutte le sorgenti del mondo, che si chiama Vivendi. Vivendi è diventata padrone dell'acqua del meridione. Basterebbe solo questo esempio per dire qual è la dannosità delle privatizzazioni. Una cosa atroce, togliere l'acqua, ne abbiamo visto qualcosa in Bolivia, in Ecuador, con delle rivoluzioni che ci sono state. Non so perché da noi nessuno si muove, la gente passiva, forse hanno talmente imbottito la mente di idee false che è veramente difficile far capire la verità. Quindi precisiamo il concetto di privatizzazione. La privatizzazione consiste nel trasformare l'ente pubblico in una spa privata. Quando è trasformata la spa privata, il servizio pubblico, la funzione pubblica viene gestita come merce e i privati se la vendono a chi vogliono. Ed ecco che tutti gli stranieri, i forti, si sono comprate le fonti di produzione di ricchezza nazionale. Non per niente i nostri padri costituenti che la vedevano a lunga. Pensate che nel 1946, quando fu approvato l'ordine del giorno d'Ossetti, dove era scritto questo, dove c'era l'articolo 43 della Costituzione, loro avevano previsto che i servizi pubblici essenziali e quindi le comunicazioni, le autostrade, le frequenze televisive, le ferrovie, tutto quello che implica comunicazione e servizio, comunque la sanità, l'istruzione, dovesse essere in mano pubblica o di comunità, di lavoratori o di utenti. Articolo 43. Le fonti di energia, che sarebbe l'Enel, eccetera, quelle fonti di energia, a proposito delle telecomunicazioni, poi tutto è finito a TIM. TIM d'Italia è rappresentata per l'8%, mentre la vecchia telecom era tutta italiana, è stata venduta da Prodi per 13 milioni di euro, ma io sto Prodi non lo so, ma gli dovrei dire hai sbagliato tutto per non offenderlo, perché non posso offendere nessuno, è veramente, io non voglio offendere la persona di nessuno, questo è il mio modo di essere, però ho il dovere di dire tu hai sbagliato, a mio avviso, posso anche sbagliare io dicendo questo, però a me pare che i fatti siano talmente evidenti che mi danno ragione, io non dico opinioni, dico dei fatti, quindi Prodi quando ha venduto, privatizzato, già telecom era stata privatizzata da Perlusconi e quando ha venduto telecom a TIM, TIM c'era già stata una preparazione per questo, eccetera, e mi pare che è avvenuto nel 97, se non sbaglio, TIM è rimasta agli italiani per l'8% la cassa depositi e prestiti, tutto il resto è straniero, noi che usiamo i telefonini TIM, la linea TIM eccetera, paghiamo i nostri soldi agli stranieri che sono americani, australiani, francesi eccetera, è una cosa assurda, cioè dire abbiamo dimenticato che un popolo per il fatto stesso che si installa sul territorio, il quale appartiene al popolo a titolo di sovranità, ha la ricchezza che gli dà tutto il territorio, è lo stesso fatto dello stare insieme, del comunicare fra le persone, tutte le fonti di produzione di ricchezza del popolo sono state tolte al popolo e date agli stranieri. se uno si fa una passeggiata per via Veneto a Roma resta sconcertato, i grandi alberghi a cominciare dal Chelsea, che è in mano araba, sono passati in mano straniera, quindi loro vengono in Italia, noi potremmo vivere solo di turismo e solo vengono a prendere qua il turismo, quegli alberghi ospitano e guadagnano, ma i guadagni vanno all'estero, non vanno più in Italia, è il golden power. Perché il governo non l'ha mai usato? Noi ce l'abbiamo, 2012, poi rivisto successivamente, cioè dire il Parlamento italiano ha dato al governo un potere speciale di vietare tutte quelle vendite, quelle svendite e quegli strumenti analoghi che tolgono frutti al popolo italiano. Perché non si usa il golden power? Chi sono questi governanti che fanno tutto questo? Dopo in questo quadro, altro elemento, sono le delocalizzazioni. Scusa Paolo, mi sembra che stiamo andando un po' troppo lungo. Ci sono le delocalizzazioni e le svendite. Concluso questo, devo dire, i rimedi ce li abbiamo, i rimedi ce li abbiamo e basta far valere la Costituzione. Cioè a dire l'articolo, la parte prima della Costituzione, il titolo terzo, dedicato ai rapporti economici, dove si dice che quello che conta, che prevale, è la proprietà pubblica. Intanto la proprietà privata, articolo 42 della Costituzione, la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, cioè dal popolo italiano, ha lo scopo di assicurare la funzione sociale. Non è certo una funzione sociale la delocalizzazione con il licenziamento degli operai, non è certo un'azione sociale la privatizzazione, togliere a tutti, è una truffa, togliere a tutti e dare a pochi. Quindi sono state delle leggi truffaldine, alle leggi lo posso dire, non lo posso dire alle persone che le hanno fatte, però alle leggi glielo dico, sono delle leggi truffaldine che hanno tolto la ricchezza al popolo italiano e l'hanno 2 che dice la proprietà privata è riconosciuta e garantita allo scopo di assicurare una funzione sociale, quando la funzione sociale non è garantita viene meno la proprietà, viene meno proprio il diritto di proprietà e noi dobbiamo farlo dichiarare al giudice, quindi c'è una via e questi beni abbandonati sono diventati automaticamente beni del popolo, questo mi pare è estremamente importante, ma è importante anche quello che si dice in relazione alle contrattazioni, articolo 41, l'iniziativa economica privata è libera e su questo il grande professore Mario Monti ha detto siccome è libera gli imprenditori possono fare quello che vogliono a meno che la legge glielo impedisca direttamente, come se la legge fosse una persona che arriva in mille posti dove si trovano gli imprenditori, professore ma tu ti sei scordato te lo dico in napoletano, ti sei scordato che esiste il seguito dell'articolo 41, te lo leggo io l'articolo 41, l'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, pensate ai licenziamenti, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, professore se lo studiasse bene l'articolo 41 prima di fare delle leggi, comprese quelle che è inserita nell'articolo 81 della Costituzione il pareggio di bilancio che non era assolutamente cosa da fare, è fatta la chetichella poi senza che nessuno sapesse niente, voglio solo concludere dicendo che noi abbiamo la possibilità perché il diritto di resistenza di cui parlava Dossetti esiste in Costituzione e noi abbiamo due strumenti per agire contro i nostri governanti che dovrebbero fare i nostri interessi e fanno gli interessi degli stranieri facendosi servi, ma noi non vogliamo essere servi con loro perché il popolo italiano ha la sua dignità e noi dobbiamo ribellarci e abbiamo due strumenti giuridici per far valere il nostro diritto di resistenza contro questi governi, anche contro l'attuale che sta facendo delle cose come il porto di Trieste e come il porto di Taranto che si accingono a dare ai cinesi questa volta, non ai tedeschi. Noi abbiamo lo sciopero generale che è garantito dall'articolo 49 della Costituzione e abbiamo la possibilità di ricorrere al giudice e di portare queste leggi dannose davanti alla Corte Costituzionale, la quale non potrà fare altro che annullarle. Grazie Paolo, hai fatto un quadro direi molto completo che se abbiamo l'idea di fare una serie di trasmissioni… Ma io con te ho intenzione proprio di fare questo. Dobbiamo poi riprendere ciascun punto, ritornarci sopra in modo da… Da farle entrare nella mente della gente. Esatto. Perché poi sono dati… Sono dati… Non ho detto nessuna opinione mia. No, non ci sono proprio… Io ho descritto il pensiero dell'uno e il pensiero dell'altro e i fatti che sono successi. Esatto. Anzi nel mio libro di prossima pubblicazione insieme al tuo c'è un titolo in cui sono elencati tutte le leggi che hanno regato danno l'Italia. Esatto. Io porto il numero, la data… Certo. Della legge. Assolutamente. Quindi è un discorso che va conosciuto, va capito perché ci troviamo in un'epoca in cui la menzogna… Domina. Domina ovunque. Allora io riprenderei questa sera, magari faccio una parte piccola per tenere la trasmissione, insomma il contenuto… Mi dispiace, scusami. Ma lo riprendiamo un'altra volta, non importa, tanto per me va benissimo così perché tanto… Io mi inviterei a parlare delle conseguenze psicologiche dell'economia, della concorrenza dell'economia competitiva. Quali sono le conseguenze psicologiche? Ah che bello, mi piace. Ok. Allora dedico una parte di questo nuovo libro proprio a questo. Quali sono le conseguenze psicologiche del neoliberismo? Allora sul piano dell'economia reale lo hai spiegato in tutti gli aspetti. Adesso io parlerò dell'altro danno spaventoso che l'economia… che il neoliberismo produce che è la distruzione del pensiero umano. Cioè il pensiero dialettico, il pensiero critico, la cultura umanistica, la capacità di discernere il vero dal falso, la capacità di connettere tra di loro le cose… Tu hai per esempio detto una cosa che dovrebbe essere ben conosciuta da tutti i giornalisti ma non viene mai fatto. Cioè magari ti dicono un fatto ma non ti dicono la cornice generale di questo fatto. Eh quello è il punto. E con questo parlare di un fatto poi di un altro poi di un altro senza individuare la struttura generale dentro cui questi si si collocano e da cui prendono senso è una strategia per impedire al popolo di capire. Esatto. Esattissimo. Ecco allora comunque detta in tre parole l'egoismo di cui parlavi prima è una forma di malattia mentale. Certo. Invece la solidarietà è una forma di salute mentale. È la salute mentale, l'egoismo è la malattia. Perché tutti noi vogliamo vivere nella felicità, nella gioia e nell'amore. Ora l'egoismo è un distruttore dell'amore, non è possibile l'amore dove c'è l'egoismo. E' semplice. E' quindi la vita. Perché la vita è l'amore. La vita è amore. L'amore che muove il sole e le altre stelle. Esatto. Tutta la creazione è amore. Esatto. Neoliberismo enfatizza, anzi dice bisogna essere egoisti. Quindi è fascista secondo me. Sì. E' terribile. E' fascista. Certo. E' oppressivo. E' violento. E' una forma violenta di società. Molto violenta. Esatto. Questa forma violenta di società distrugge quanto è più sacro. Cioè la salute dell'anima. La salute dell'animo umano. Il quale l'anima appassisce in una società così. Perché l'anima si nutre di amore. Si nutre di relazioni armoniche. Invece qui noi viviamo relazioni tossiche, competitive. Non solo nel mondo esterno, nel mondo del lavoro. Il che è ben noto. Ma addirittura nelle coppie, nelle famiglie, nel rapporto genitori figli. E' la distruzione quindi di quanto c'è di più sacro. E quindi potremmo dire che il sistema neoliberista è una forma proprio prodotta da forze diaboliche. E' proprio l'anticristo che si manifesta nel mondo. Esatto. Ecco, io mi fermerei anche qui perché le persone che ci seguono adesso magari hanno bisogno di staccare e così via. Ma noi riprendiamo, fra una settimana facciamo un altro intervento e ne faremo fino a che queste cose non saranno comprese da tutti. Benissimo. Sono d'accordissimo con te. Io ho sempre detto che l'incontro tra me e te è provvidenziale. Assolutamente. Perché tu guardi alla mente umana. Io guardo all'ordinamento giuridico, al complesso, al tutto. Esattamente. Alla comunità. Il singolo è la comunità. E guarda che i romani avevano questa grande cosa di considerare il singolo parte della comunità. Questa è la grandezza di Roma. Il civis, il cittadino, si agiva proprio come dice la Costituzione, dove poi sicuramente ci ha messo mano qualche illustre romanista, come la Pira per esempio. Per i romani, chi agiva davanti al pretore, agiva non in rappresentanza del popolo, direttamente come cittadino e quindi nel proprio interesse e nell'interesse di tutti. Questa è la grande cosa. Invece il codice di procedura civile italiano, ereditato dopo la rivoluzione borghese, francese, borghese, cioè egoistica di pochi, trifonte alla massa, eccetera, dice che nessuno può agire in giudizio fuori del proprio interesse. L'ho posto. L'ho posto. Dobbiamo cambiare proprio la disposizione centrale del codice di procedura civile. Ok, ti ringrazio moltissimo, è stato un incontro bellissimo. Grazie Paolo, sono stato così lieto di... Anche perché quando uno si conosce così e poi comincia ad affezionarsi... Eh sì, è una cosa bellissima. ...ha il desiderio anche di rivedersi, di parlare. È certo, è certo, proprio così. Va bene. Grazie molto Paolo. Saludiamo tutti gli spettatori. Grazie Paolo, a presto. Grazie a te, grazie a Pietro. Grazie. Grazie soprattutto a Nicola che mi ha scritto una lettera bellissima. Hai visto che Nicola ti segue tanto, ti segue tanto. Bravissimo, gli telefonerò. Perfetto, grazie molte. Ciao, ciao Paolo. A presto. A presto, grazie. Grazie, ciao.